Darvita non ha dibattito sterile ma un vero e proprio cantiere di sviluppo. Con questo spirito nei giorni scorsi gli stati generali dell'imprenditoria con il tavolo delle opportunità si sono confrontati con l'assessore regionale all'area interna Andrea Gerosolimo. Gli imprenditori e associazioni non si sono fatti trovare impreparati, hanno presentato all'assessore il decalogo delle opportunità. Una decina le priorità individuate per rilanciare il territorio e uscire presto dalla crisi fra cui il riutilizzo dei fondi FAS a favore delle piccole e medie imprese, il bando per il potenziamento dell'offerta turistica nel cratere, Masterplan Ovidio 2017 con il progetto Il Grande Ritorno e Spazio Ovidio, Abruzzo Film Commission, valorizzazione del settore agroalimentare, potenziamento della DemSecure dell'Appennino, fusione Unione dei Comuni e associazionismo territoriale stabile. Al centro della discussione anche l'area di crisi complessa, le macroarie interne, i poli d'attrazione. L'assessore Gerosolimo fanno sapere dal tavolo delle opportunità. Non si è sottratto al confronto, affermando, ribadendo che gli imprenditori non potevano che scegliere un'attività di osservazione e di accompagnamento del sistema produttivo, ovvero agente di sviluppo del territorio. L'assessore ha ribadito la necessità di istituzionalizzare il tavolo affinché tutti gli incontri e tutte le proposte possano produrre risultati positivi per la Valle Peligna, impegni concreti da parte degli enti pubblici e privati competenti. Gerosolimo parteciperà personalmente al tavolo e d'accordo con imprenditori e associazioni boccia la tesi dei no a prescindere. Si apre dunque una fase di serena valutazione dei progetti SNAM e Toto. Gli imprenditori riguardo la centrale e il metanodotto hanno ribadito di impegnarsi per una responsabilità sociale delle imprese, una sorta di manifestazione della volontà di gestire efficacemente le problematiche di impatto sociale anche ammodernando i propri impianti produttivi nel rispetto dell'ambiente, al fine di controllare e compensare in gran parte il livello di missioni che l'impianto potrebbe generare. Il riferimento al progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-L'Aquila, il tavolo ha proposto l'assessore l'idea progettuale dell'eliminazione delle tre stazioni della Valle Peligna sul Mona Pratola e Pratola Superiore per la realizzazione di una moderna e funzionale stazione Peligna in territorio di Pratola, zona Santa Brigida. Per gli imprenditori e associazioni in ogni caso il confronto con gli amministratori del territorio non finisce qui. Lunedì prossimo incontreranno il presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis.